Io direi di iniziare questa giornata, ma c'ho il mago prima del poeta, io direi di iniziare questa giornata ricordando che questa sera a Ristorante La Foge c'è un po' di magia, però è anche comico, è pure comico, la magia, la comicità, cagliostro, cagliostro. Scusatelo, purtroppo lavoro con non professionisti, ma va a casa, scusate, questo è come dare il coccio alle colonne, te lo dico io, non c'è soddisfazione a lavorare con topi così. Ma questo ce lo presenti, chi è a parte? L'attore Mirko Sassoli, della serie Ci fa una sega a gas, cioè voglio dire Ci fa una sega a gas, ma va a casa dopo, ma io chiedo scusa a nome dell'arte. Veramente una tristezza, veramente. Questa sembra quelle pisciate di cammello sul deserto. A meno male che dopo ha detto che qui c'è la tristezza di Valenzio. Allora, posto che stasera chi è intelligente va a La Foce, che c'è Cagliostro, che se volete prenotare 0575, il ristorante La Foce è 658187. Via, poi che c'è, cosa abbiamo? Facciamo il poeta. Ecco, allegria, qui c'è un momento di allegria, è un pochino più allegri. C'è anche il momento della poesia. Sorriso. Dario Salvi, il figlio del professor Drome, famoso Drome Dario. E' il microfono, che par di coglioni. Ascolta, non c'è te, io vado a cambiare il microfono. E' finita. E' finita, allora, ciao. I sindaci che devono venire. Prosa in aretino, le come lo so io. Ciao Pietro, un derivito. Un poi sparire, un poi andare via, ora che c'è da parlare di tutti quelli che sopra il cavallino vogliono montare. Malevisto il Macri, ha detto che vuole arfare la città. Speriamo che non faccia niente, se al fare è come ha fatto la sua locanda, siamo del gatto. Un dosera visto mai in Turezzo un filare di palme, almeno facessero le banane. Seppur guardi quel caseggiato così imponente e un po' arrangiato, e tanto sdatto, che la vista di Rezzo ha tappato. Macri, lascia stare, un la rifare a Rezzo, a noi ci piace così. Date uno sguardo intorno, e senza cieco, lo devi vedere quel che brutto e quel che bello. E invece la tua locanda, sembra uno sgabello. E il Luccherini poi. Se vuole riciclare, e ora che le rotonde sono finite, se tocca a Lu, chissà cosa vorrà fare. Speriamo che armetta i semafori, che c'era, tanto cifra la mano, se fa più a Cozzi ora di prima. E quei ferri sono sempre aggruvicchiolati dalle mine che c'è danno. Perché, che c'è la rotonda, tutti lo sanno, specialmente quelli che per la prima volta quella strada fanno. E il Luccherini, ditemi voi, come se fa a presentarsi dopo tutto quello che c'è stato? A Rezzo si è interessato anche qualche magistrato. Niente di grave, per carità, un ne è morto nessuno, ma dei danni ne è stati fatti tanti. Quando si contorna di gente incompetente, le cose sono due. O un lo sai, o se lo sai, fai finta di niente. Le colpe sono tue, e probabilmente chiudi l'occhi, perché delle volte è meglio non sapere niente. O la Sestini, dimmi te. O nella vita a Roma, ma forse lì contava niente. La tenivano lì solo per votare, invece lei voleva comandare. Sì, perché l'era venuta noia di essere Sestini, ora voleva essere coi primi. Si è presentata come l'unica candidata e ha ditto di essere capo dell'accordata. E invece va stata una sbufarina che è venuto giù una slavina. O che non lo sa che per stare sopra il cavallino basta avere per padrone un buon cavaliere. Ci vuole anche descendere da cavallo, non avere la puzza sotto il naso. E se Arezzo li voleva bene, a Roma non ce le doveva andare. Ora vorrebbe attornare e con tutti la stessa l'aspettere. Io di vincere te lo posso augurare, ma se fossi in te non ce starei tanto a sperare. Caro Pietro, che ne dici finora di quel che si è detto? Io dico che si è fatto la casa, ma non si è fatto il tetto. E se ci penso anche fino a domani, ora ci tocca parlare anche del Fanfani. Che per quattro anni è stato chiotto e ora ultimamente ha fatto il botto. Parcheggi a più non posso, bicicletti a noleggio, marciapiedi per andare a passeggio. Alle grandi città si è ispirato. Ci manca che fa la metropolitana, ma oramai non ce la fa. Manca solo qualche settimana. E anche se venisse diretto, ci direi la cosa. Le cose le ha fatte di getto. E il getto è di cemento armato, ma di sicuro non ci ha provato. Se non altro per rispetto del suo famoso suo zietto. E non è per farmi scherno, ma non ce so arrivo prima. Ma zietto mi serviva per la rima. O via Pietro, ora te lascio. Ce la trova, presto, presto. So sicuro che da parlare di questo e di quello non mancarà. Eppure vuol sapere? Quel che sarà, sarà.